Il miglioramento della situazione sociale ed economica nello Sri Lanka e il viaggio di Papa Francesco nel gennaio 2015 nell'isola asiatica sono stati al centro dell'incontro del Papa con il Presidente della Repubblica Socialista Democratica dello Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa. Nel corso del colloquio si è parlato infatti della situazione attuale del Paese, con particolare riferimento ai segni di miglioramento sociale ed economico, auspicando il raggiungimento di soluzioni corrispondenti alle legittime attese di tutti i cittadini. E in questo contesto è stato espresso l'augurio che la prossima visita del Papa possa essere accolta come segno di vicinanza alla popolazione sri lanchese e come incoraggiamento a quanti si adoperano per il bene comune, la riconciliazione, la giustizia e la pace.